Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di un libro che consiglio a tutti, anche agli adulti. Il titolo del libro è Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando. Fino a questo momento è in assoluto il mio libro preferito. La sua trama si svolge a Palermo e racconta quello che è successo a Giovanni Falcone, attraverso i racconti di un padre al suo figlio. Nel giorno del suo compleanno il bambino era alla mia età e il padre gli ha spiegato che si chiama Giovanni proprio in onore del giudice. Attraverso questo racconto ho conosciuto un uomo fantastico, un vero errore. Io amo questo libro e penso che tutti dovrebbero leggerlo, anche in tutto il mondo, perché le storie degli eroi le dovremmo conoscerle tutti. E perché così possiamo ringraziarlo, visto che se oggi viviamo in una trittà un poco più tranquilla, è specialmente grazie a lui. E spero tanto che tutto quello che lui ha fatto venga continuamente da tutti noi. Grazie a tutti.